È stato un precursore, è insegnato. Una padova come la Treviso di Gentilini è da qui che parte il progetto Città Sicura della Giunta guidata da Massimo Bitonci. Il primo intervento oggi in Piazzetta Sartori, divenuta zona di bivacco, rifugio di sbandati e spacciatori. I lavori prevedono di togliere fioriere e panchine, proprio su modello di Gentilini. Treviso è una città pulita, ordinata, oltretutto la città, e non lo diciamo noi ma lo dicono i dati dello Stato, con il più alto livello di integrazione. Integrazione vuol dire non far vivere gli sbandati e gli spacciatori, ma vuol dire integrare le persone che vogliono vivere in una città sicura e a misura di uomo e di famiglia. Un modo per sconfiggere il degrado ma anche per rendere questi luoghi più vivibili, tant'è che allo studio è un progetto di riqualificazione per trasformare la piazza nella sede di mercatini e manifestazioni. Ci aspettiamo che tutte le associazioni di categoria, ma anche associazioni di volontariato, vogliono fare dei programmi su queste zone per rivitalizzarle. Prossimo intervento in programma, entro Pasqua, in Piazza De Gasperi. In Piazza De Gasperi ci sono due posizioni, c'è quella per chi si ricorda dove c'era Pittarella una volta, dove verranno messi i dissuasori di seduta. E poi c'è quella piazzetta invece che dà succorso del popolo, che è un'area verde, dove ho predisposto un progetto di riqualificazione e soprattutto di inserimento di giostrine.